Con quella fisarmonica è una furia della natura, una specie di tempesta assolutamente piacevole, capace di estasiare e che è riuscito anche a fermare il maltempo proprio per la sola durata della tappa castellammarese del World Accordion Festival. Lui è Pietro Adragna, valdericino, tre volte campione del mondo di uno strumento che da solo può diventare una vera e propria orchestra. Sul palco della splendida location di Piazza Stenditoio alla Calabarina di Castellammare del Golfo si sono esibite anche altri campioni mondiali di fisarmonica provenienti da Russia, Portogallo, Ucraina e Macedonia per dar vita ad uno degli ultimi appuntamenti del Summer Festival 2019 Rassegna che per circa due mesi ha visto susseguirsi una miriade di eventi per tutte le fasce d'età e per tutti i gusti. Ieri sera sette fisarmoni che hanno raggiunto livelli inaspettati anche quando hanno suonato insieme. Il finale è stato interamente dedicato all'Anfa Dupai, cioè alla giovane del luogo. Pietra Adragna, 31 anni, ma che vanta già premi irridati, numerosi altri riconoscimenti ed esibizioni in tutto il mondo e nei teatri più importanti. Da brividi l'esibizione della Tico Tico, la versione riarrangiata che alla musicista Valdericino è valso il primo titolo mondiale nel 2008 in Portogallo.